buongiorno ragazzi abbiamo tutti bisogno di andare un po in fede siamo tutti stanchi ma torniamo a noi torniamo all'inter c'è poco da dire cioè bisogna essere sinceri stiamo subendo un po anche i danni fatti da zanga a livello economico e octree alla fine è una proprietà senza anima senza amore questo lo stiamo capendo tutti e octree beve il sangue diceva dice effenberg soprattutto nelle operazioni finanziarie ha fatto anche in cina con evergrande loro sono ritrovati questo asset che il prima possibile cercheranno di vendere chi parla di progetti a due tre anni non sono d'accordo perché per fare progetti a due tre anni devi investire tanti soldi perché poi la politica dei giovani che a me piace va bene ma la politica dei giovani è rischiosa perché ad oggi ragazzi parliamoci chiaro duriamo fatica a comprare un giocatore da 25 30 milioni ma io questo lo dico da inizio mercato difficilmente all'inter e lo dico non essendo un insider lo dico solo sì andando per logica non arrivano giocatori 35 40 almeno e non tu possa mettere dentro una contropartita motivo per cui l'inter non avrebbe mai preso buongiorno infatti infatti trovatemi qualcuno e dice l'inter ha fatto un'offerta per buongiorno sembrava sembrerebbe l'inter l'inter potrebbe offrire non c'è stata nessuna offerta per buongiorno perché buongiorno è un giocatore da 40 milioni che in napoli lo ha pagato quella cifra lì è una proprietà cinica senza anima ma che in questo periodo secondo me farà bene perché darà una bella pulita sistemerà il discorso dello stadio e loro loro non io non giuse loro hanno dichiarato che i patti con zang a fronte del prestito erano quelli che zang avrebbe dovuto vendere entro i tre anni zango questo pad questa cosa non l'ha mantenuta loro sono ritrovati questo asset e stanno cercando di spendere il meno possibile stanno cercando di spendere il meno possibile per lasciarla competitiva per poi rivenderla parliamoci chiaro ragazzi loro non gestiscono gli assets quindi si sono ritrovati l'inter avevano dichiarato prima dell'escursione del pegno che non erano minimamente interessati alla gestione dell'inter quando hanno escusso il pegno hanno detto che i patti erano che ok come ho detto prima diamo i soldi a te zang ma tento tre anni devi vendere e anche questa è una cosa che è ufficiale dichiarata da loro quindi capisco qualcuno e che magari dice ok comunque nuova proprietà dovrebbero fare un mercato migliore innanzitutto il mercato ancora non è finito ma ormai si è vista la linea guida qual è l'è di questo mercato mercato di occasioni mercato di giocatori giovani però ci sono tanti lati positivi perché ripeto ad oggi te puoi decidere se prendere il mosso oppure no con zang e il mosso sarebbe già stato preso daremi ripeto che a me è un giocatore che non piace daremi è un giocatore con questa proprietà non sarebbe mai arrivato perché è comunque un'operazione noerosa 7 milioni al procuratore 3 e mezzo a lui per tre anni sono tantissimi soldi sono operazioni da 30 35 milioni e occhi non le fa queste operazioni quindi si è ritrovata zelischi e taremi che sono della vecchia gestione anche marotta marotta specializzato nella ricerca di determinati parametri determinati giocatori ausilio è molto più bravo con i giovani per esempio meno male che abbiamo ausilio perché ausilio era quello che ha scoperto tantissimi giocatori da osimen a cutinio con branca a kovacic a brozovic a scrignar cioè ragazzi la squadra di conte dello scudetto per otto undicesimi furono portati tutti da ausilio quindi lo so non è bello essere in mano a dei fondi così perché questi veramente abbiamo capito che investiranno il meno possibile minima spesa massima resa ma lo sapevamo tutti chi vendeva acquisti da 50 mercati da 300 milioni mi diceva delle puttanate perché purtroppo non è così quindi perez è un buon prospetto lo volevano anche il barcellona e la madrid qualcuno mi ha detto giuse ma se lo volevano loro lo prendevano ma sai non è sempre detto eh dipende anche da cosa gli viene offerto al ragazzo da cosa respira il procuratore dal progetto gli viene illustrato topalovic l'ho detto ragazzi l'ho visto giocare tanto negli ultimi venti giorni secondo me è fortissimo eh lo so sono ragazzini giovani eh però prendiamo spunto dalla spagna che con due bambini ha fatto girare i coglioni a tutti sulle fasce quindi con quello con il codino ora non mi ricordo il nome con il ragazzo di balcellona quindi vedi l'età conta ma fino a un certo punto un po' come nell'amore e quindi bisogna cercare anche di rischiare di investire un po' più sui giovani e poi ragazzi che dio ce la mandi bonus dice in toscana e senza puntolini puntolini ciao inter